eccoci qui nella consueta rubrica conosciamo il nostro avversario stasera affronteremo l'udinesi andiamo a leggere questo articolo che ci dirà chi giocherà e chi insomma non ci sa non sarà disponibile la roma scenderà nuovamente in campo per affrontare all'arena dell'udinesi la squadra di coltuto nell'ultima giornata ha perso 8 a 1 contro l'atalanta e vorrà sicuramente tentare di fare risultato con giallorossi per riscattarsi dopo spettacolo che dopo l'umiliante de pacco arrivata con gli uomini di gasperini il peggior attacco della serie a con solo 5 gol fatti e una delle migliori difese del campionato con solo 6 gol subiti fino al tracollo subito con l'atalanta che ha fatto arrivare il conto delle reti concesse a 13 la panchina di tutto non appare in discussione al momento la dirigenza fiulana gli ha confermato la fiducia sperando che lo scivolone di bergamo resti in un unicum aspettando la prestazione di carattere e orgoglio già mercoledì sera con la roma in classifica l'udinese ha ottenuto 10 punti nuove giornate come il milan si posiziona al tredicesimo posto nella classifica attuale di serie a nella nella scarsa che cazzo c'è madonna sto schermo è un casino dopo compri un computer con meglio comanda nella scorsa sessione del mercato l'udinese ha acquistato nuovi elementi in ogni reparto le maio e beccao sono arrivati da bologna e bahia per rinforzare la difesa il centrocampo ha un nuovo ritrodoare con l'arrivo di jaiolo dal palermo seguito da valace della nover tituto pezzella al palma per la fascia sinistra troppeso ken sema dal watford da cui arriva anche okaka che in attacco alla concorrenza di nestro roschi acquistato anche lui dai rosa nera siciliani tornando alla scorsa stagione i vari negli ultimi disconti una vittoria testa per entrambi la roma ha perso in casa dei filiali era andata 1 a 0 per l'udinese gol di depol me ricordo molto bene al retorno invece vittoria per la roma sempre 1 a 0 grazie al gol di zeco la propria riformazione il 35 di tutto non poteva avere a disposizione o poco squalificato dopo la vattanza contro la taranta e davanti a musso dovrebbero schiarci beccao e kong e samir a destra teravest sinistra sema e in mezzo iaialo depol e mandagora con un calco a nestro roschi davanti difficile che la sagna possa recuperare andiamo a leggere i valori dell'udinese con l'attacco 78 centrocampo 73 difesa 74 e andiamo a vedere i giocatori vari perisanna si arralta 70 poi o poco poco che non ce l'ho letto appena appena letto parere si poi nicolas questo altro portiere sema iaialo nestoroschi questo altro bello attaccante a mio avviso che ai tempi del palermo faceva molto bene travest non so chi sia onestamente credo sia un nuovo arrivo samir nuvinting 75 de mayo 75 balizzo 75 fufana poi tro e con mandragora altro bel talento a mio avviso questo l'art sono attraverso ma la setta o casa questa ex roma tra l'altro negli ex e di tanti dicono è scarso certo non sarà un campione però la butta dentro spesso quindi bisogna stare attenti teodor zick lo dico beccao questo è ricordato come aver segnato contro il milan resti tempi che ci vuole chissà quanto però vabbè lasagna che non c'è stata recupera pericolo numero uno mi avviso barack altro bel talento pussetto non male musso che si sta arrivando davvero un ottimo portiere e secondo perso il più forte è the pool infatti si condivido questa scelta ma mi avviso ottimo giocatore infatti c'era stata anche una chiacchiera per comprare questa calciomarcata ma non se ne ha fatto più niente però davvero ottimo e niente questo era conosciamo il nostro avversario udinese che può venire dal 7 a 1 che però tanto conoscendo la roma sicuramente non faremo sette gol sarà una parità tutt'altro che facile a mio avviso perché vorranno sicuramente riscattarsi e niente speriamo bene che stasera è sempre 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 forza roma